Musica Buonasera, bentrovati con il suo appuntamento con l'informazione Antenna Sud News. In apertura questa sera vi parliamo di cronaca, una tragedia sulla provinciale che collega Trigiano a Carbonara nel Barese. Un uomo di 45 anni ha perso la vita in un incidente stradale, l'uomo sarebbe morto sul colpo. Una domenica di sangue sulla provinciale che da Trigiano porta a Carbonara. Un uomo di 45 anni ha perso la vita, ancora poco chiara la dinamica dell'incidente. La vittima, originaria di Capurso, ha perso il controllo dell'auto a circa un chilometro dall'ingresso di Trigiano. Erano le 13 e il sole ormai aveva fatto capolino dopo una mattinata di incessante pioggia. Potrebbe essere stato l'asfalto bagnato ad aver fatto slittare l'auto sul muretto della corsia opposta. Uno schianto fatale. Il mezzo si è ribaltato su un fianco e il 43enne è morto sul colpo. Indagano sulla vicenda i carabinieri che hanno interpellato i pochissimi testimoni che hanno assistito alla scena in un momento successivo ma non a quello dell'impatto. L'uomo era sposato e aveva una figlia. Nell'auto però era solo. La moglie, in stato di shock, è stata trasportata con un'ambulanza all'ospedale di Venere di Carbonara. Si esclude il colpo di sonno considerato l'orario centrale della giornata ma su quella strada circolano anche molti animali. La vittima potrebbe averne incrociato uno sul percorso ma sono solo ipotesi. L'uomo, prima dell'impatto, ha provato a frenare. Le telecamere di videosorveglianza presenti sul cancello di un'azienda antistante il muretto potrebbero far chiarezza sulla dinamica dell'incidente ma purtroppo una tragedia ha colpito un'intera famiglia nel giorno in cui ci si riunisce attorno ad un tavolo. Fuoristrada con l'auto intorno all'ora di pranzo. In gravi condizioni una 26enne di Galatina. L'incidente sulla Copertino San Pietro in Lama. Escono fuoristrada con l'auto. In due finiscono in ospedale ad avere la peggio una giovane di 26 anni di Galatina trasportata con codice rosso al Vito Fazzi di Lecce dove è attualmente scoverata con prognosi riservata. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di domenica lungo la strada provinciale che collega Copertino a San Pietro in Lama nel territorio di Monteroni. Una lancia Y condotta da un leccese 35enne è finita in un terreno che costeggia la carreggiata dopo ribaltamento. A lanciare l'allarma sono stati gli automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato i due occupanti affidandogli ai sanitari del 118. Il guidatore ha rimediato alcune lesioni ed è stato condotto in ospedale con codice giallo. Per ricostruire la dinamica dei fatti sono entrato i carabinieri dalla stazione di Monteroni di Lecce insieme ai colleghi della compagnia del capoluogo Salentino. Cambiamo ora argomento. Linea diretta a Brindisi Forlì per il trasporto delle merci. Questa mattina il vice ministro alle infrastrutture e mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, è stata a Brindisi per il taglio del nastro di questo nuovo servizio intermodale. Un progetto innovativo che parte da Brindisi ma guarda tutta la Puglia per un nuovo trasporto intermodale che vedrà le prossime tappe di avvio del servizio anche nei territori di Bari e Foggia e che punta con lo scalo brindisino anche ad un nuovo utilizzo e rivalorizzazione della struttura di Surbo. Un'iniziativa che guarda anche alla sicurezza, al lavoro e all'ambiente. Si investe sul futuro e si costruiscono le condizioni per una maggiore competitività del sistema territoriale e del nostro sistema di imprese. Mi pare che quello che parte domani può essere annoverato tra proprio gli impegni assunti nel piano nazionale di ripresa e resilienza dove parliamo di sostenibilità ma parliamo di sostenibilità in modo concreto. E' uno sdoto fondamentale, tra l'altro nelle prossime settimane noi come Regione Puglia saremo a Tirana e a Durazzo per discutere anche del Corridoio 8 creare un corridoio e le merci che viaggino su treni e che siano collegati a mercati internazionali è fondamentale. Questo è il prodotto di scelte anche fatte nel passato che oggi ci ritroviamo tutte qui, le scelte riguardanti per esempio le opere pubbliche portuali, a volte anche contrastate da qualcuno in città le scelte di dotare di una infrastruttura ferroviaria il retroporto di Brindisi e collegarlo con la rete nazionale comporta quello che state vedendo oggi. Siamo in grado di fare concorrenza ai porti del nord che sono più attrezzati per questo, penso al porto di Trieste offrendo una intermodalità in tutte le sue forme di scambio mare-mare, mare-gomma, mare-ferro finalmente la linea ferroviaria sia adeguata per permettere questa intermodalità. Ed in programma sempre oggi una visita guidata e dimostrativa in presenza degli operatori ferroviari e dei trasportatori utilizzatori del servizio stesso. all'interno dello scalo intermodale e allora andiamo ad ascoltare i tecnici nel prossimo servizio. Inaugurato lo scalo per il trasporto merci diretto Brindisi Forlì che convolge le aziende trasporti primicieri, la pugliese Lotras e la tedesca VTG, un segnale di collaborazione e unione a servizio del territorio tra pubblico e privato con la collaborazione e la presenza delle ferrovie sud-est. Questo è un grande passo avanti che unisce un grande passo avanti per il mezzogiorno, per la Puglia nel ruolo della logistica e del trasporto nazionale dove la distanza tra sud e nord viene decisamente ridotta per cui il ruolo della logistica assume una posizione completamente diversa. Il resto a livello di sicurezza, sostenibilità è indiscutibile. Per la prima volta in Italia diamo la possibilità ai camion non attrezzati per andare via ferrovia, che sono circa l'85% del parco viaggiante in Italia di poter usufruire del servizio ferroviario senza logica di contrapposizione ma anzi con logica di inclusività. Quindi il cliente del sistema ferroviario diventa l'autotrasportatore con tutti i vantaggi che da un punto di vista della sicurezza e da un punto di vista ovviamente dell'ambiente poi ne derivano. Cambiamo ora argomento. Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Puglia. Bombe d'acqua e disagi. Tornano le piogge in Puglia. Una intensa ondata di maltempo si è abbattuta da nord a sud della regione. Il balese è stato colpito da un violento sistema temporalesco che ha interessato sia le zone costiere che diversi settori dell'entroterra, delle aree centrali e sud-est. Il temporale è stato accompagnato da vento forte, scariche elettriche e grandine. Notevoli disagi registrati nel capoluogo a causa delle forti piogge. Le strade allagate a Bari hanno rallentato la circolazione e il sottopasso della zona industriale è stato chiuso. Intanto le bombe d'acqua hanno provocato danni ai campi. I terreni non riescono ad assorbire l'acqua che cade con troppa forza causando frane e smottamenti. Lo scenario è aggravato dal consumo del suolo e in Puglia l'allarme lo lancia col diretti. Il presidente Savino Muraglia chiede di accelerare l'approvazione della legge sul consumo di suolo. Ancora ferma in Parlamento, spiega, da quasi un decennio solo in questo modo si potrebbe dotare l'Italia di uno strumento all'avanguardia per la protezione del territorio. Nuovo incidente nello stabilimento Acciaierie d'Italia. Un operaio è stato ferito dal getto d'acqua di un'idropulitrice sottoposto ad un intervento chirurgico. A riferirlo è la Wilma. Nuovo incidente sul lavoro nel siderurgico di Taranto e Xilva, ora Acciaierie d'Italia. Lo rende noto la Wilma. Nell'infortunio nella palazzina Fanghi Acciaieria 1 è rimasto ferito un lavoratore della ditta Semat Service durante le attività di lavoro di pulizie industriali, secondo quanto riferisce il sindacato. L'operaio è stato investito da un violento getto d'acqua ad alta pressione proveniente dalla PTC, una macchina idropulitrice usata negli impianti industriali che gli ha procurato la lacerazione dell'inguine. Secondo quanto si apprende dalla Wilma, il lavoratore a circa 30 anni è stato assunto da un mese e inquadrato col contratto di lavoro multiservizi. Riteniamo che questo innesimo infortunio, contesta il sindacato, sia la conseguenza di attività di lavoro che vengono svolte in maniera approssimativa senza salvaguardare la salute e la sicurezza delle maestranze. Gennaro Oliva della Wilma ha riferito all'Agi che il lavoratore una volta soccorso è stato trasportato in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico nella parte ferita. Abbiamo evitato una tragedia, ha aggiunto Oliva, sarebbe abbassato davvero poco per colpire la orta. Il getto dell'idropulitrice molto potente taglia come una lama. La Wilma inoltre avvierà un'iniziativa legale a tutela dei lavoratori che nella busta paga di settembre che riguarda le mensilità di agosto si sono vissi trasformare dall'azienda le ferie in cassa integrazione. E da Bari in posizione del Paglio a Monsignor Satriano la celebrazione solenne rappresenta la missione del pastore della chiesa alla guida della sua comunità. Ci troviamo a Bari davanti alla cattedrale, qui la celebrazione solenne dell'imposizione del Paglio da parte del Nunzio Apostolico in Italia della Repubblica di San Malino, Emil Paul Scherig all'Arcivescovo Monsignor Giuseppe Satriano della Diocesi di Bari-Bitonto. Una celebrazione dalla forte valenza simbolica perché evidenzia l'unità tra la sede apostolica e le chiese locali. In questa sorritte occasione vi permetto di ricordare l'importanza della bellezza del Paglio, segno che oggi ritorrò sulle spalle del vostro pastore. Grazie eccellenza per ciò che vivremo e tutti noi uniti come unico popolo di Dio eleviamo il nostro rendimento di grazia e la sopplica all'Altissimo. Un evento che interpella non solo il Vescovo, ma con lui l'intera chiesa diocesana della quale pastore e guida il Paglio, già benedetto da Papa Francesco lo scorso 29 giugno, è il simbolo del pastore che dà la vita per il gregge. Per consuetudine veniva conferito nella celebrazione della solennità dei Santi Pietro e Paolo in Vaticano dallo stesso Pontefice. Papa Francesco ha disposto a partire dall'anno 2015 che l'imposizione avvenga nel corso di una celebrazione nella diocesi di residenza dell'Arcivescovo Metropolita per le mani del Nunzio Apostolico, così da favorire la partecipazione nella cerimonia liturgica degli altri Vescovi e aiutare tutta la comunità alla comprensione e valorizzazione di questo momento. Questo paramento liturgico consiste in una striscia di stoffa di lana bianca, la lana d'agnello rappresenta la pecorella perduta o anche quella malata e quella debole, l'intero gregge che il buon pastore mette sulle sue spalle e conduce alle acque della vita fino alla croce, come ricordano le sei croci nere sul Paglio. Lo ha sottolineato Bergoglio e donando la vita spiega che il pastore liberato da sé diventa strumento di liberazione per i fratelli. Da domani suona la campanella nei primi istituti scolastici in Puglia. All'appello delle vaccinazioni mancano 90.000 studenti e 7.000 insegnanti. Suono della prima campanella e scatta il conto alla rovescia in Puglia. In vista dell'imminente ritorno a scuola proseguono le chiamate attive da parte delle ASL ma anche gli open day e le corsie preferenziali negli hub. Il governo starebbe valutando l'obbligo vaccinale per gli insegnanti e studenti. Ad anticiparlo è il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. In tutta la regione Puglia l'appello delle vaccinazioni mancano ancora 94.300 anni del 19, più 61.000 in fascia a 12-15 anni e altri 32.600 in fascia a 16-19 anni ma anche 7.000 insegnanti. In vista dell'imminente ritorno a scuola l'imperativo dell'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco e del dipartimento di prevenzione guidato da Vito Montanaro, resta quello dettato all'ASL sin dall'avvio della campagna dedicata agli studenti lo scorso 22 agosto. Vaccinare con prima e seconda dose il maggior numero di alunni prima del rientro a scuola. Un obiettivo al quale in queste settimane le varie aziende sanitarie hanno lavorato di concerto con i dirigenti scolastici, mettendo in campo una strategia fatta di chiamate attive a tappeto scuola per scuola. L'ipotesi del vaccino obbligatorio per gli studenti potrebbe essere considerata dunque dalla fine di settembre ad ottobre e ciò soprattutto nel caso in cui la riapertura della scuola comporti un'impennata dei casi. Sull'ipotesi si continua comunque a ragionare. E torniamo a parlare del trattamento di fine mandato per i consiglieri regionali pugliesi che sta facendo tanto discutere. Secondo i discrezioni la norma non sarà del tutto abrogata ma dovrebbe subire qualche ritocco. È stato inserito in agenda e si discuterà nella seduta del 21 settembre. Si tratta del trattamento di fine mandato per i consiglieri regionali pugliesi, privilegio che sta suscitando non poche polemiche e che è balzato anche agli onori della cronaca nazionale. A recentrare la questione sul TFM, la presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, che ha convocato i capi gruppo di maggioranza e opposizione per superare l'impasse e accelerare il confronto sulla misura reintrodotta lo scorso 27 luglio all'unanimità, prevede con effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio del 2013 una indennità di 35.500 euro per ciascun consigliere, circa 2 milioni di euro per l'intera legislatura. Il governatore Michele Emiliano ne aveva chiesto la cancellazione e, secondo indiscrezioni, l'orientamento sarebbe quello di abrogare la norma così approvata e portarne un'altra in aula, con alcuni correttivi. Giornata chiave è quella del 13 settembre, durante la quale dovrebbe svolgersi una riunione ad hoc insieme ai capi gruppo, a convocarla la stessa presidente del Consiglio regionale Capone. Qualora si dovesse arrivare a una soluzione condivisa, la nuova norma sul trattamento di fine mandato sarà discussa nella seduta del parlamentino di Via Gentile in programma il 21 settembre. Tutti in piazza nei comuni del Salento al voto, comizi ed incontri si susseguono in modo incalzante. Tutti in piazza in queste ore nei comuni dove liste candidati sindaci corrono per conquistare i palazzi di città. Nelle ultime 48 ore in modo incalzante si sono svolti comizi elettorali per illustrare i programmi e nomi in campo. Da Trepuzzi a Cavallino a Lizzanello e poi ancora Racale, Uggento, Patù e in queste ore è la volta di Nardò e Gallipoli dove oltre ai nomi in corsa scendono in campo anche i parlamentari, consiglieri regionali ed ex leader locali. Ci sono inoltre nomi storici legati al panorama del centro-destra che non faranno mancare il supporto a candidati di centro-sinistra o civici. Ma non finisce qui. Dalla settimana prossima sono attesi i leader nazionali e così è tutto pronto per accogliere il ministro Di Maio e l'ex premier Conte che oltre al supporto ai sindaci candidati nel Salento, 21 per l'esattezza, ha organizzato un vero tour in tutta la Puglia. Le amministrative in realtà saranno un banco di prova per comprendere come i suoi territori stanno reggendo le varie alleanze governative e soprattutto come i cittadini stanno rispondendo alle spaccature e i mal di pancia all'interno delle coalizioni nei palazzi romani. La Puglia si prepara ad accogliere altri profughi afghani. In arrivo da Roma altre famiglie. In arrivo da Roma a Molfetta due famiglie afghane, 13 persone in tutto, tra adulti e bambini. Lo rende noto il comune del Barese spiegando che i profughi saranno ospitati nelle strutture del SAI che si occuperà di garantire tutti i servizi che puntano all'integrazione, dai corsi di lingua ai servizi scolastici fino all'inserimento nel mondo del lavoro. Nella giornata di arrivo e nella prima fase del progetto alle due famiglie sarà affiancato anche un interprete. È importante, afferma il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, tutelare e garantire la privacy e la sicurezza di queste famiglie scappate da uno dei regimi più atroci, liberticidi e sanguinari del pianeta. Accoglieremo i primi profughi afghani, sono famiglie con bambini a seguito. Nella organizzazione dell'accoglienza ci sono degli organismi che da tempo svolgono nella nostra città come in altri comuni questa capacità di accogliere profughi dei vari paesi. Noi siamo pronti ad accogliere con lo spirito di accoglienza di sempre della nostra città. Dal 25 agosto scorso la Puglia ha accolto 75 cittadini afghani richiedenti asilo, fuggiti dal loro paese e il bilancio della protezione civile regionale che ringrazia i pugliesi per aver partecipato alla gara di solidarietà. Vogliamo ringraziare, dicono, tutti coloro che hanno donato beni di ogni genere, non solo per l'aiuto concreto che queste donazioni hanno fornito, ma anche per il messaggio intrinseco che iniziative come questa consegnano, per quanto sconfortante possa essere ogni atto di violenza e sottrazione, esiste un'inarrestabile forza di amore e donazione che supera ogni barriera. Chiusura temporanea a Taranto del Cavalcavia Croce in entrata e in uscita della città per i mezzi diretti e provenienti da Bari e Reggio Calabria. Grossi fori sull'asfalto hanno indotto le istituzioni a chiudere al traffico il Ponte della Croce in zona Porta Napoli a Taranto. Si tratta di una chiusura temporanea, fa sapere l'amministrazione comunale del capologo ionico. Grossi fori, dunque, come si nota dalle immagini all'altezza di una giuntura crepe che hanno fatto scattare l'allarme, l'ordinanza di chiusura in via precauzionale precede interventi di manutenzione della struttura ormai non più rinviabili. Chiuso al traffico in entrata e in uscita dalla città per i mezzi provenienti da Bari e da Reggio Calabria. Gli operatori ANAS sono posizionati sulla strada statale 100 per segnalare la viabilità alternativa mentre la polizia locale di Taranto sta operando nei pressi del terminal a Porta Napoli dove ci sono le arterie di accesso al ponte. I tecnici comunali sono già all'opera, si dovrà individuare e risolvere il problema del manto stradale causato probabilmente dalla pioggia. Secondo gli esperti, nelle prossime ore una ditta incaricata provvederà al ripristino. In un periodo di diritti negati il Comune di Taranto e il Comitato Qualità della Vita hanno voluto ricordare l'esempio di Nelson Mandela. Una nuova giornata dedicata al ricordo di Nelson Mandela è stata celebrata dal Comune di Taranto Assessorato agli Affari Generali e dal Comitato Qualità della Vita nella mattinata di domenica 12 settembre. L'incontro si è svolto nella Biblioteca Clavio con la partecipazione del Coro della Scuola dell'Infanzia Piccoli Passi, diretto dalla docente di musica Vittoria Macheda. È stata una giornata suggestiva dedicata al diritto all'identità e alla diversità nel ricordo dell'ex presidente del Sudafrica, leader del movimento anti-apartheid che ha trascorso lunga parte della propria vita in carcere contribuendo alla caduta del regime segregazionista. La cultura dei diritti è qualcosa che va trasmessa fin dai primi anni di vita ed è questo che è una parte anche del mio impegno personale, non solo politico, dell'amministrazione Meducci. Il Mandela Day fatto qui nella biblioteca Clavio che è una struttura ormai contemporanea censita tra le strutture storiche d'Italia, conterrà oggi un evento che mette in luce quanto bisogno c'è di celebrare i diritti. Vogliamo affermare con forza i diritti con riferimento a Mandela, ma vogliamo anche in qualche maniera lanciare un messaggio del progetto Le ragazze di Kabul, dopo vent'anni ancora le donne sono fortemente discriminate. Due arresti a Francavilla Fontana per droga, bevano mezzo chilo di cocaina e sei chili di marijuana. In giro con mezzo chilo di cocaina, arrestati dai carabinieri a Francavilla Fontana, un 47enne ed un 45enne entrambi del luogo. Sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due erano a bordo di un'autovettura e un Audi A3 quando si sono imbattuti in una vettura dell'aliquota operativa del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri. L'operazione è scattata in una via del centro cittadino. Il controllo ha dato i suoi frutti, mezzo chilo di cocaina. I carabinieri hanno preceduto alle perquisizioni domiciliari, trovando sei chili di marijuana, 1730 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. È materiale utile per il confezionamento delle dosi. I due francavillesi su disposizione del PM di turno sono stati condotti presso la casa circondariale di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Prosegue a Francavilla l'attività di contrasto contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Una locomotiva è tornata nell'arsenale militare marittimo di Taranto. All'evento è stato dedicato un convegno a cento anni dalla sua costruzione. Ascoltiamo. Dopo 51 anni dalla sua dismissione, il 3 novembre, la locomotiva 835-327 è tornata nell'arsenale militare marittimo di Taranto, dove era stata costruita. La locomotiva è stata attiva dagli anni 20 fino al 1969, anno in cui fu dismessa. Recuperata e trasportata nel 2010 all'Officina delle Ferrovie dello Stato di Taranto, dall'Associazione Treni Storici di Puglia, è stata sottoposta ad un accurato restauro conservativo. Il centenario della locomotiva è stato al centro di un interessante convegno che si è tenuto nel Salone dell'Arsenale. Dopo il saluto del direttore dell'Arsenale, Contramiraglio Luigi Schinelli, hanno relazionato il professor Oreste Serrano dell'Associazione Treni Storici Puglia, il capitano di Corvetta Gaetano Appeso, la dottoressa Barbara Davide, sovrintendente nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e la professora Salvatore Marzo, già dirigente scolastico del liceo Aristosseno, oltre all'ingegnere Ferdinando Miglio, capo sezione affari generali dell'Arsenale. Il ferroviario in Arsenale serviva ovviamente per connettere l'interno dell'Arsenale con l'esterno, le persone, gli operai, i lavoratori prendevano questo treno, le merci entravano e uscivano grazie a questo trasporto ferroviario che poi si diramava in tutto quanto l'Arsenale. È una tecnologia che adesso abbiamo superato, però è bellissimo ricordarla perché fa parte della nostra storia. Oggi ricordiamo il passato tenendo presente che stiamo costruendo il futuro. Sussidi ed ausili didattici per i diversamente abili e non solo. È in corso una tre giorni di formazione per i docenti nell'Istituto Vico De Carolis di Taranto. Un corso di tre giorni per la diffusione della cultura di ausili e sussidi didattici per aiutare gli alunni a superare le difficoltà nell'ambito dell'apprendimento e l'iniziativa organizzata dall'Istituto Scolastico Vico De Carolis, sede del Centro Territoriale di Supporto della provincia di Taranto. 95 i docenti impegnati nelle lezioni, svolte in presenza e curate da Andrea Ussillani della cooperativa Anastasis. Abbiamo ascoltato la dirigente scolastica dell'Istituto Vico De Carolis, Giovanna Lato. È un evento che ha un taglio prettamente laboratoriale e pratico, anche per questo abbiamo pensato ad un evento in presenza ed è anche un'opportunità per i docenti degli istituti della provincia di Taranto di ritrovarsi dopo due anni legati all'emergenza sanitaria e poter anche confrontarsi in merito ai sussidi e agli ausili didattici. Qual è la peculiarità di questi tre giorni di formazione? La peculiarità è quella di fornire un servizio di formazione e consulenza in merito ai sussidi e agli ausili didattici che possono essere utilizzati in classe con gli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali. Tra l'altro la formazione è stata collocata in un momento anche cruciale perché fra pochi giorni scade anche il bando emanato dall'ufficio scolastico regionale proprio per la presentazione di progetti per richiedere ausili e sussidi didattici. Ed è Salentino l'unico studente italiano in corsa per il premio Global Student Prize con un monte premi da 100.000 dollari. Il giovane è tra i 50 finalisti su 3.500 candidati. Sono molto felice di essere tra i finalisti dei 50 migliori al mondo che vengono appunto questi ragazzi non sono i più bravi a scuola ma sono quelli più impattanti. Si chiama Mirko Cazzato e di Lecce a 19 anni e su 3.500 candidati è tra i 50 finalisti al mondo del Global Student Prize che premia lo studente più impattante del mondo con 100.000 dollari. Ha frequentato l'istituto Galilei Costa di Lecce e nel 2016 all'età di 14 anni ha creato Mabasta, il movimento antibullismo animato da studenti adolescenti. Dopo il diploma ha deciso di impegnarsi, studiare e lavorare a tempo pieno per Mabasta. Mabasta è nata appunto nel 2016 da me e dalla mia ex classe a causa di una 12 anni di Pordenone che appunto tentò il suicidio. Questa notizia fece molto scalpore all'interno della nostra classe. Dato che non riusciamo a comprendere questo aspetto abbiamo deciso che forse era ora di fare qualcosa di concreto appunto contro questi terribili atti che appunto il bullismo è stato il bullismo. Ovviamente sono anche molto orgoglioso di dove è arrivata Mabasta. Tra circa un mese si saprà la shortlist dei 10 finalisti al Global Student Prize per poi a novembre conoscere il vincitore assoluto. In pari sono 100.000 dollari che saranno devoluti tutti internamente a Mabasta. Perché? Perché Mabasta quando riceve fondi tramite appunto bandi pubblici o privati o tramite un crowdfunding che è attivo adesso sul nostro sito. Sono tutti fondi che trasformano in azioni concrete nelle scuole. Andiamo a sensibilizzarli sul tema, li formiamo e portiamo a modo dei materiali concreti per far rimanere davvero qualcosa di concreto e per fare qualcosa di concreto all'interno delle scuole. Ed hanno scelto di salutare l'estate, prepararsi al rientro a scuola con una lettura in barca che hanno i bambini che hanno salpato da Santa Maria di Leuca consumando anche un aperitivo in barca con i loro genitori. Una giornata speciale a Santa Maria di Leuca per alcuni bambini che insieme ai loro genitori hanno vissuto un momento di lettura con una modalità inedita ovvero in barca. Un saluto all'estate prima del rientro tra i banchi di scuola nell'ambito del progetto Leggere tra due mari che mira a valorizzare le biblioteche pubbliche della provincia di Lecce. Oggi siamo in barca, su una barca con 30 bambini, con i loro genitori per promuovere un po' la storia del territorio grazie anche all'associazione Sherazad per chiudere l'estate in bellezza che i bambini poi torneranno a scuola con un bel ricordo e con qualche informazione in più sul loro territorio, sul Salento. Allora oggi abbiamo scelto nelle repertorie delle storie di Sherazad che sono tante, sono più di 50 su tutto il territorio salentino due racconti in particolar modo, dei quattro che ho scritto su Leuca. Uno è il racconto del saraceno fantasma legato alla leggenda del mare spunnato, del mare senza fondo che è quello che si trova praticamente alle spalle del santuario. E poi ci sarà un racconto invece più legato agli usi e costumi di Leuca è un po' un modo per raccontare una delle caratteristiche distintive di Leuca cioè le sue viglie ottocentesche, i suoi stili eclettici e queste bagnerole variopinte che all'interno delle quali le nobili donne facevano il bagno a fine ottocento. Giornata delle Isole è organizzata anche a Brindisi dal gruppo di Radio Amatori. Radio Amatori in campo anche a Brindisi per la giornata della valorizzazione delle isole italiane promossa proprio dall'ARE, l'Associazione Radio Amatori Italiani ed organizzata dalle sezioni di Grado e Venezia con la collaborazione delle sezioni di Udine, Brindisi, Taranto, Livorno, Quarto, Sant'Elena. Nella città adriatica protagonista l'isola di Sant'Andrea nei pressi del Castello Alfonsino canne da pesca come antenne che collegano Brindisi a tutto il mondo. Noi facciamo parte dell'Associazione Radio Amatori Italiani che è un'associazione nata all'inizio degli anni 60 volta a avvicinare i cittadini alla radio. Stiamo dimostrando che con delle semplici apparecchiature analogiche e con un'antenna fatta con dei pezzi di filo si riesce a collegare l'altra parte del mondo. In situazioni di emergenza come terremoti e altri eventi atmosferici le telecomunicazioni tradizionali quali telefonia cellulare eccetera chiaramente non funzionano in quanto possono crollare i tralicci dove sono installati i ponti eccetera. Con un'apparecchiatura radio di questo tipo e con un'antenna creata fatta con un pezzo di filo noi comunque garantiamo la comunicazione in tutto il mondo. Ovviamente la scelta delle canne da pesca in realtà marine come il territorio brindisino è naturale. Assolutamente, è un'antenna fatta volutamente per rimanere contestualizzati. Ed è tutto il nostro Tg termina qui grazie per averci scelto, per averci seguito buon proseguimento di serata sui nostri canali e ancora una buona domenica sera.